se vuoi sapere dove si trova l'egitto dovresti chiederlo alle rondini a fine estate quando l'aria si fa più fresca i loro stormi lasciano l'italia e si mettono in viaggio verso sud attraversano il mar mediterraneo e approdano sulle calde coste dell'africa in terra d'egitto l'egitto è una delle principali mete turistiche del mondo il suo mare ricco di coralli e pesci variopinti e le grandiose testimonianze archeologiche della civiltà egizia attirano ogni anno numerosi visitatori ma chi abitava qui un tempo verso la metà del quarto millennio avanti cristo mentre in mesopotamia nascevano le prime città dei sumeri nella valle del fiume nilo cominciò la lunga storia degli egizi questo popolo diede vita a una delle più grandi e splendide civiltà del mondo antico la sua storia si sviluppò per circa 3000 anni la grande ricchezza degli egizi era il fiume ogni anno a inizio estate il nilo si ingrossava e la sua piena allagava completamente la valle a fine settembre le acque si ritiravano lasciando sul terreno il limo uno strato di fango scuro ricco di sali minerali che rendeva fertilissimo il suolo per questo motivo l'agricoltura degli egizi era molto produttiva gli abitanti dell'egitto intrapresero un lungo lavoro per controllare le sondazioni del nilo trasformando l'intera vallata del fiume innalzarono argini e dighe prosciugarono le zone paludose costruirono canali per irrigare i campi le acque del fiume erano ricche di pesci e sulle rive cresceva il papiro una pianta che veniva utilizzata in molti modi dalla pianta di papiro si ricavavano corde stuoie sandali canestri fogli per scrivere e persino piccole barche il nilo inoltre era un'importante via di comunicazione gli egizi dividevano l'anno in tre stagioni in base alle condizioni del fiume la prima stagione quella dell'inondazione della valle detta akhet cominciava a luglio in questo periodo i contadini non potevano entrare nei campi allagati allora si occupavano di altro curavano il bestiame lavoravano il papiro e lino fabbricavano riparavano gli attrezzi la seconda stagione quella della semina cominciava a novembre con il lento ritiro delle acque e proseguiva fino a marzo i contadini aravano e seminavano ortaggi vari lino e cereali tra cui il grano e soprattutto l'orzo con il quale producevano pane e una specie di birra già alla fine del neolitico nella valle del nilo esistevano numerosi villaggi agricoli per sfruttare le acque del fiume era necessario realizzare lavori molto complessi come costruire argini prosciugare paludi scavare bacini e canali che richiedevano grande organizzazione la terza stagione da marzo a luglio era quella della mietitura detta scemo era il momento di falciare e immagazzinare raccolti fu così che diversi villaggi unirono le loro forze formando comunità sempre più grandi che divennero due regni veri e propri il basso egitto a nord e l'alto egitto a sud verso il 3100 avanti cristo il leggendario re menes unificò i due regni e ne prese il comando con il titolo di faraone menes diede inizio alla prima delle 30 dinastie di faraoni che governarono l'egitto in tutta la sua storia menes pose la capitale a menfi e per l'egitto cominciò un periodo di grande prosperità l'antico regno che durò circa mille anni i faraoni più famosi furono cheope che fren e micerino costruttori delle grandi piramidi nel periodo successivo il medio regno gli egizi ampliarono i loro territori occupando la nubia il sinai e la terra di canaan la capitale fu trasferita a tebe al centro dell'egitto verso il 1500 avanti cristo per la terra del nilo cominciò il periodo di massimo splendore il nuovo regno il sovrano più importante fu ramses ii che governò per 67 anni egli favorì l'arte e la letteratura e ordinò la costruzione di grandissimi monumenti dopo di lui l'egitto cominciò a indebolirsi diventando terra di conquista di numerosi popoli prima gli assiri poi i persiani quindi i greci e infine i romani che sottomisero definitivamente l'egitto nel 30 avanti cristo per gli egizi il faraone era un vero e proprio dio che governava e proteggeva l'egitto essi pensavano che fosse dotato di poteri soprannaturali capaci di ottenere dallo spirito del nilo il misterioso miracolo dell'inondazione che portava abbondanza e felicità il faraone era signore dell'egitto e tutte le cose gli appartenevano le terre gli uomini gli animali la sua parola era legge egli poteva decidere della vita e della morte di ogni suo suddito il faraone aveva numerosi compiti che esercitava attraverso i suoi funzionari organizzava i lavori agricoli e la costruzione di argine e canali stabiliva i tributi e la quantità di scorte da immagazzinare concordava gli scambi commerciali con i paesi vicini il faraone era il capo dell'esercito al quale prendevano parte soldati di professione ma anche molti contadini che erano obbligati a lasciare il lavoro dei campi per seguirlo nelle guerre nelle cerimonie pubbliche il faraone indossava un copricapo a righe il nemes e una barba finta che imitava quella degli dei sulla fronte portava l'ureo un amuleto a forma di cobra come protezione dai pericoli in una mano teneva il bastone di curvo segno della saggezza di chi guida il popolo come fa il pastore con il suo gregge nell'altra reggeva il flagello la frusta a tre frange che simboleggiava il potere sui campi e sulle persone la sua corona rossa e bianca rappresentava l'unità del regno rosso era il colore del papiro che cresceva nel basso egitto bianco era il colore del fiore di loto simbolo dell'alto egitto spesso il faraone veniva raffigurato anche con l'ank il simbolo egizio della vita grazie a tutti grazie a tutti